Negli anni ti abbiamo visto con ammirazione mentre hai elaborato un ottimo progetto di come possiamo andare su Marte. Sono semplicemente curioso di sapere che tipo di iniziative avete in mente per dare una risposta alla domanda del perché e del continuo interesse nel pubblico del reale desiderio di una cosa del genere così vasta e complessa. Ah, sì esatto. Questo è veramente perché voglio iniziare a dire che quello che importa veramente è l'intersezione di insiemi delle persone che vogliono andare e possono permettersi di andare. È possibile fare di tutto per aumentare il desiderio delle persone di andare. E penso che sia una cosa buona. Ci sono un sacco di show su Marte, film, spettacoli televisivi e so che sono stati scritti e si vuole creare veramente il sogno di Marte nelle menti della gente che sia come una nuova frontiera che sia eccitante, divertente e desiderabile il più possibile. Quindi penso che questo sia dove l'industria dell'intrattenimento gioca un ruolo importante semplicemente nell'immaginare e nel lanciare questo sogno nella testa delle persone per fargli vedere come possa essere. Nel lanciare questo sogno nella testa delle persone per fargli vedere come possa essere. Quindi penso che questo sia dove l'industria dell'intrattenimento gioca un ruolo importante semplicemente nell'immaginare e nel lanciare questo sogno nella testa delle persone per fargli vedere come possa essere. Quindi penso che questo sia dove l'industria dell'intrattenimento gioca un ruolo importante semplicemente nell'immaginare e nel lanciare questo sogno nella testa delle persone per fargli vedere come possa essere. E si vuole creare veramente il sogno di Marte nelle menti della gente. Si vuole creare veramente il sogno di Marte nelle menti della gente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.